Grazie di essere venuti, questa sera è una discussione diciamo che è collegata con la mostra che si trova nel monastero per la quale esiste anche un catalogo che è a vostra disposizione. Quindi è una discussione sul diritto delle persone, delle donne, ma è già scensurata dall'inizio perché ci hanno dato un'ora di tempo e se andiamo oltre ci tagliano il corrente, va bene, quindi proviamo di fare in fretta. Questa mostra ha la sua origine in un progetto che è stato richiesto dall'Associazione Giraffa, che è presieduta da Maria Pia Vigilente. E quindi ti chiederei per primo, Maria Pia, di spiegare questo progetto e di dire quali sono i suoi obiettivi e a che cosa è riuscito a finanziare, a promuovere. Prendi il microfono per favore perché se no... Sì, grazie a tutti e a tutti per essere venuta, grazie alla Fondazione per averci invitato, per aver realizzato questo bellissimo catalogo, la mostra e soprattutto per averci dato la possibilità di fare i calendari che sono poi oggetto adesso del catalogo e della mostra. Come nasce il progetto? Il progetto nasce proprio studiando il vostro centro, vedendo le vostre tavole e quindi abbiamo pensato all'epoca, insieme ad Anna Maria Minunno, la possibilità di realizzare un calendario e denominarlo Le Fan Bat You. Il calendario perché? Perché tramite le rappresentazioni delle varie tavole che tutti quanti gli artisti e le artiste hanno realizzato ci dava la possibilità intanto di portarlo ovunque perché è un oggetto molto maneggevole e di, in prossimità del calendario, poter parlare delle varie declinazioni delle violenze visto che le nostre artiste e i nostri artisti hanno realizzato varie tavole sulle varie declinazioni delle violenze molto belle e, come dire, anche di semplice fruizione da parte degli studenti e delle studentesse. Che cosa abbiamo fatto con il ricavato delle donazioni ricevute dai vari calendari? Sono state utili per poter aumentare l'empowerment femminile, nel senso che con il ricavato abbiamo pagato laddove c'era bisogno o gli asili per i bambini e le bambine per consentire alle mamme di poter fare l'inserimento lavorativo. Noi sappiamo che gli asili nido piuttosto che le scuole hanno un orario determinato soprattutto qui in Italia e quindi se c'è un lavoro che va oltre le 17 le mamme ovviamente avevano difficoltà a continuare a lavorare e invece con questi proventi abbiamo potuto pagare le scuole o gli asili, le rette per poter far accedere ai minori e quindi le madri poter lavorare tranquillamente. Abbiamo pagato degli anticipi dei canoni di locazione per consentire l'autonomia abitativa delle donne perché ovviamente una delle declinazioni della violenza è la violenza cosiddetta economica e quindi se parliamo di violenza economica parliamo anche di impossibilità per le donne di trovare casa e soprattutto impossibilità in mancanza di capacità reddituale di poter pagare quantomeno i primi canoni di locazione piuttosto che altro anche gli arredi perché una donna che mette su una casa ex novo ovviamente ha bisogno di tutto e quel tutto significa avere bisogno di un aiuto di natura economica. Quindi abbiamo pagato tutte le varie cose che volta per volta erano necessarie. Poi ha costituito un tesoretto per l'associazione, che cosa vuol dire costituire un tesoretto? Nel senso che laddove si presentava il bisogno ovviamente sapevamo dove andare ad attingere perché guardate che noi l'anno scorso, dico una cifra lorda perché non ho fatto il calcolo diciamo eliminando poi tutte quante le spese che pure sono poche però insomma ci sono state l'associazione tramite tutte le donazioni ha incassato 20.000 euro quindi 20.000 euro per l'associazione è un vero e proprio tesoretto che si è andato ad aggiungere alle somme ricevute dai finanziamenti regionali quindi questo ci ha permesso veramente di fare molte cose. La settimana scorsa una signora ha acquistato una macchina usata però lei è felicissima come se avesse acquistato una macchina nuova quindi era molto contenta di questo perché la macchina le dà ulteriore autonomia non deve più prendere autobus, treni per raggiungere il posto di lavoro ma con una macchina usata le può essere autonome quindi risparmiare sui tempi del tragitto e dunque anche risparmiare sul tempo in cui il bambino, in questo caso il bambino e la bambina devono essere nella ludoteca post scuola. Grazie Maria Pia. Devo precisare che tutti gli artisti non sono solo delle donne anche dei uomini hanno partecipato, l'hanno tutti fatto gratis cioè hanno dato tutti i loro disegni per permettere... Sì, ce le hanno regalate le tavole, certo. Allora vi voglio presentare le tre vignette che sono qua presenti e che hanno fatto alcune delle tavole che sono presentate nella mostra e nel catalogo. Vicino a me c'è Trax, che è il suo nome di artista, Christine Traxeller che è stata un'avvocata, non ho detto avvocatessa, è un'avvocata ma che da molto tempo si dedica alla vignetta satirica e molto attiva, diciamo, nella difesa dei diritti e discuteremo di quali diritti dopo. Accanto a lei Andrea Aroyo che è mexicana ma che vive a New York e che è venuto da New York per vederci qua a Conversano grande artista, molto famosa come Trax, tra l'altro e accanto a lei Marlene Paul e lei arriva dall'Argentina e quindi abbiamo due grandi viaggiatrici che sono venuti a Conversano dall'altro lato dell'Atlantico, diciamo e Marlene Paul ha vissuto per 23 anni in Germania ma adesso è ritornata in Argentina e quindi la prima domanda che vorrei fare a lei e altrimenti Maria se vuoi anche rispondere parliamo di diritti delle donne ma non è che parlare dei diritti delle donne è già una discriminazione nel senso che sarebbe diversi, inferiori a quelli dei uomini e quindi questo vocabolario dei diritti delle donne non è un po' strano non si dovrebbe utilizzare un'altra parola e se si utilizza un'altra parola quale potrebbe essere? che vorrei? Andrea, vorrei cominciare e poi passare oh, sì no, no, sorry che passi Andrea oh, ok, sorry thank you Teren thank you everybody for coming and for the invitation for me, you are right we shouldn't be having to make this separation of women's rights however, as we understand it right now the situation of the world I don't think our society has evolved enough for us to be able to do that so for me, at least, it's important to be very specific not only about women's rights but also the other layers of discrimination in terms of class discrimination gender discrimination immigrant status discrimination so at least in the US there are layers and layers of complexity that for me are important to address I hope one day we can all talk about human rights and we will be much better Marlene Marlene this cartoon is done some years ago because of the theme was girls can't what it means, it's very clear it's not girls cannot do nothing and can do something else but they can't what and it was for an exhibition in Turkey and this is very important because there is a contest a very important contest for many years it's called Aydin Dogan and they have this problem from discrimination and they have a very important program for girls not even for adults but for girls from the school and death and it's in my mind a very important thing for this culture with all this trouble and this problem that they have in this country so this was the aim, the theme from this cartoon potrei aggiungere una cosa un po' divertente che l'altro giorno sono andato nel bagno di un ristorante qua a Conversano e c'era il bagno per i uomini e il bagno per le donne nel bagno per i uomini si poteva fare la pipì in piedi nel bagno per le donne c'era una tavola per cambiare i bambini e questo indica esattamente la discriminazione che esiste cioè se un papà deve cambiare il suo bambino deve andare nel bagno delle donne vabbè, questo è l'assoluto questo è il proposito dei diritti delle donne esatto i diritti delle donne sono collegati alla cura esatto quindi tu nel bagno trovi non parlare senza loro nel bagno trovi delle donne trovi la possibilità di avere il tavolo dove le donne possono cambiare i neonati o le neonate mentre nel tavolo degli uomini questo non lo trovi quindi è vero noi dovremmo parlare dei diritti di tutti ma noi per esempio soprattutto dei diritti dei uomini di occuparsi dei bambini dei bambini grazie esattamente questo è il problema perché noi parliamo poi di diritti umani ma solamente in relazione alla violazione dei diritti umani di cui purtroppo siamo ancora portatori in maniera molto incisiva e adesso a proposito dei bambini appunto volevo chiedere a Trax di commentare un po' la sua vignetta first about human rights or women rights I want to answer I want to say I've been a lawyer which is not a detall because as a lawyer I had to defend as many husbands than wives so I have a different point of view on a situation of conflict between men and women and this is very important so maybe you will think sometimes I defend too much husbands or men and not enough women but that's not true I think human rights there are no women rights different from human rights it's a fight we have to do together and we don't have to ask for different rights because it's already the beginning of a division between men and women so we have human rights and it's true we have more to fight for the women exercise their human rights okay and this is because a lot of women say I don't say anything against the violence of my husband because my children will be the first victims and of course it's not a good reason because I think the children they're consciently or not they quickly guess that there is a violence in the middle of the foyer and so it's never 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 a good reason it's a good reason to go to la giraffa in the show in the show we are facing a whole series of problems particularly in the countries non europe in Afghanistan in Iran etc. but today I would like to dedicate this conference this debate to what happens to us in Europe or in America or in America Latina e vorrei affrontare il primo tema che è la violenza fisica sulle donne purtroppo abbiamo in Francia per il momento un caso assolutamente tremendo di un uomo che drogava la sua moglie per quasi dieci anni per farla violentare e l'ha fatto fare per più di 80 uomini e questo ovviamente è un caso eccezionale ma non così eccezionale perché si sono trovati 80 uomini che hanno accettato di partecipare a questa cosa assolutamente orenda non così eccezionale e ha fatto un film una chiamata che mi ha detto che mi ha fatto il mio figlio di me e il tribunal ha fatto solo le donne e il presidente ha detto che le donne molte domande e apprezzò che dopo una domanda di un'altra domanda che lei ha acceptato e che ha avuto l'attacco della pratica sexuale molto divertente con le vegetali e tutto tutto e dopo due anni ha chiesto di lasciare questo ragazzo, ma è venuto. E dopo un anno, il ragazzo è venuto. E una friende di lei ha detto, non ti ricordi che due anni fa tu era rapido? E quindi, lei è venuto il tribunal. E dopo un anno, la Presidente ha chiesto una domanda. E lei ha detto, Do you think when a woman tells no, it means yes? And she was very hard with the woman and then with the man. And I was not there to get the judgment. But it was something obviously very, very complex. And the responsibility is always both parts. That's what I mean. I believe very much in justice and good judges. And I think even a victim has a responsibility. We have to fight together always. Andrea? Yes. So, for me, I think for me violence is violence. In the U.S. we have the Me Too movement. And I think the most important gain of that movement has been women having a voice. That they before didn't have. And the other one is the hashtag Believe Survivors. Because I think that it is extremely complex. Every case is different. I'm not a lawyer. So I, every woman has a, or every survivor has a different experience. But I think violence is violence. And we have the right as women, as human beings to live without violence. So that's the most important part. The integrity, protecting the integrity of the human being. And knowing that survivors also go through trauma that we not necessarily understand. So compassion first, for me. And believe in survivors. Marlene? Yes. I agree with Andrea. No, no you don't... I agree with Andrea. And in my, when I think in, in my continent, I will say South America. we have so much to do even if I can say they did a lot of things against violence but there are a lot of things and the most important in my mind is to give more information and we as cartoonists we have the ability to try to make this more that all people can say and can understand and can accept also what violence is really in our life I think there are a lot a lot of things to do and and I yes we can what can we do we can use our ability to draw to give our ideas and our our rage against all these things against women and in South America at all at all we have really really much to do sorry for my English sorry to oblige you to speak in Spanish but un another problem that exists in many countries europe and occidentals is the problem of abortion and in fact for women and and I think for almost women women because women women defend the women of abortion but the fact of not being able to choose in any condition what to do their body and how to decide to reproduce or less cannot be a fundamental for women and I would want to know first from you Andrea what you think of this problem you have worked on this issue yes for me basically abortion is healthcare it's first of course about making a choice having the right over your own body integrity over your own body but the right to abortion is healthcare so for many women it's more about that right to healthcare the other thing is we all have individual experiences every woman has a different experience in life it has a different moment in their life so the right to be able to choose and decide for ourselves is very very important and in the US we're actually going backwards so as women as activists we have to decide to act to not allow these policies to take us backwards because it's actually women's lives at stake so women are going to lose their lives if this goes forward why they lose because they are using techniques which are not safe why that's one reason the other reason is because they're going to have children that are not wanted that's another thing they're going to have children in poverty and without any support from government society or families sometimes so they get isolated so it's an issue that impacts the society as a whole it's not about one individual woman so it impacts all of us so we need to take care of each other again compassion first and also think about logic and being smart about our choices not only as individuals but as government as citizens as well so that we support policies that are healthy for individuals and societies yes because sometimes laws are ambiguous or not only ambiguous the law exists but the reality is different and when at all with young girls they have no idea and so and they are exposed to the ridiculous perhaps also we have to think also at the real life the quotidian life from each people and the reality just you can say yes the law is there and you can take apart from this but the reality is really because of the poverty the poverty in countries as ours I don't know in Mexico but in Argentina is really very very important and it's I think reality and knowledge is the most important for yes to take something Christine I think you talk about the most important part of this problem so I just want to add something different which is now in France I have friends in planning familial this association teaches how to avoid the abortion and they say now more and more they see girls not so young sometimes who choose abortion because they think there is no danger so they abort and abort and abort and there is no no more money to teach in school how to how to prevent abortion and that's a very problematic thing that yes knowledge is not efficient is not sufficient and there is no 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 money to teach how to do better and also we don't hear a lot for the moment about the masculine pill the pill for men it seems to be disappeared and also here we have to give money to the scientists to make more research on that it's another kind of inequality e un'altra disegurianza cioè il fatto che la prevenzione sessuale è essenzialmente femminile molto di meno per i uomini i would add that there in countries as ours they are always things they think it's more important than like this oh about this is not so important as to give people to eat this is the most important even even if we are in the 22 first century but yes this is laws are made by men perhaps so we need also women in the congress Maria Pia in italia il tema dell'aborto è molto difficile perché la presenza della chiesa cattolica e dichiarazione diciamo del papa anti-aborto eccetera e potresti riassumere molto brevemente un po' la situazione perché da quello che so ci sono medici che possono rifiutare ma da quello che ho sentito mi pare che la situazione italiana non sia molto diversa dalle situazioni degli altri stati certo in italia abbiamo l'influenza della chiesa cattolica però abbiamo anche una legge che garantisce la possibilità di effettuare l'interruzione di gravidanza peccato però che abbiamo la maggior parte dei medici obiettori di coscienza quindi questa legge è stata effettivamente svuotata le donne le ragazze non possono evidentemente poter attingere poter esigere questo diritto di poter fare in tranquillità e con diciamo in sicurezza l'interruzione di gravidanza perché ci sono pochi medici quindi che cosa succede succede che quei pochi medici che fanno soprattutto dottoresse ormai che effettuano le interruzioni di gravidanza sono quelle che vengono messe lì come se fossero al macello perché è così che viene evidentemente considerata e sono quelle che non sono più destinate a fare carriera perché loro si occupano appunto dell'interruzione di gravidanza quella che in altri termini dovrebbe essere chiamata come la pianificazione familiare in realtà non è una pianificazione familiare quindi credo che sia un diritto esistente ma non esigibile quindi esattamente come negli altri stati succede anche in Italia questa cosa abbiamo molti medici obiettori di coscienza per cui non vi è la possibilità di poter esigere questo diritto fino in fondo con l'aggravante che adesso le associazioni provita stanno chiedendo di essere inseriti nei centri antiviolenza piuttosto che negli ospedali dove viene esercitata l'interruzione di gravidanza per poter rappresentare alla donna che cosa stanno facendo e fare l'interruzione significa ammazzare un bambino questa è la rappresentazione che viene data alla donna e quindi diciamo una rappresentazione che le fa sentire in colpa e che quindi esercita un altro genere di violenza anche se questo è un tema sul quale si potrebbe dibattere perché ci sono ovviamente diverse posizioni io vorrei andare avanti per affrontare altri visto poco tempo che abbiamo altri problemi di disuguaglianze e comincerei con Marlene Paul per commentare un po' questa vignetta e anche aspettate Marlene e anche questa perché stavamo parlando di diritto prima I think the cartoon is evident but in this way it's perhaps it's represented a person I will not say a woman or a man but it's a person in a bottle they cannot do nothing and something else is running to stop this cry so you can think you can put this cartoon or this idea for freedom of expression or human rights or in our case the cry against violence and the other one is the big boss the big judge the big person but it's not a nice figure it's big and he has power and all the people all the women will need something from him are very very small they have no chance to come to something I ask Christine Traxler you are an avocate and you said before that you defended women and women but in France now there are many women women have the same attitude vis-à-vis of women that come in front of a tribunal c'è una discriminazione c'è una situazione del genere della vignetta di Marlene Paul o no with women with women judges I'm no more lawyer now but I'm sure it still exists like racism still exists in mind of certain judges of course the problem has not disappeared in every mind but I think more 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 judges accept by instance to give the guard of the children to the man and to the woman I remember a guy was a friend of I didn't know him personally but he was a friend of friends and he was working in Peugeot good wages very good clothes everything and he was complaining because he divorced and he had the same salaries and his wife the same job the same hours of work and the judges decided to give the guard of the children to the woman and he said it's very anxious and I told him if somebody has to stay at home to keep the children what do you think it's a father or a mother and he told me it's a mother of course who has to stay at home and I told him you know the judge thinks exactly like you think it gives a guard to the woman because he has this mind that the mother is always better for the children so this has to change also I don't know what the situation for the people now today but we have a lot of things to change in society I like to go back to abortion we have a lot of problems which come from the social networks because they give a lot of advice about your sexual life when you are a young girl and what you have to do or you have not done that now and you are always you are already 16 or 15 or 14 and you have not tried that and so this is a big part of the problem excuse me I go back to abortion but problem I problem problem yes thank you so i i think this is quite self evident but i think in general we think of education as a way out for many of the communities that are la problem in many cases is education is not accessible so sometimes it's not accessible because of geographical circumstances sometimes it's not accessible because it's expensive in the US for example education is a lot of education high education is private so it costs a lot of money and so there are systems that actually prevent women from accessing this education so it's very difficult to advance without these tools that education is supposed to give women and the other part is that education itself needs to be holistic and take in consideration not only what is science and the development of information and the sharing of information but also take in my opinion a holistic approach and take the human being as a whole thing that needs education and care and compassion and empathy so that we understand that we are part of a whole we are not all individuals and I think that's the only way out yes I remember just when I was living in Germany and this is not so far away some 10 or 12 years ago I heard the information about equality or not equality between men and women and at work and the statistics said that women won 23% less than men in Germany Yes, this is indeed a theme that is still cold in Europe the statistics for the European Union they show that the difference of income is about 10-15% but obviously this can vary in many countries I remember a sister that was married with a German and when my husband came to talk to my father to have the hand of my sister he said he said He said he said he said he will be worried about everything he will not work he will be worried about children he will be worried about everything well, this was not a long time ago but it was so but talking about disegualances or situations very different for women and women there is a problem that is very important not only not too much here even if with Ukraine and what that is happening in Palestine etc. that generally are women who suffer more from the situation of war or of violence and so Marlene this is your design can you comment on? please the cartoon I made this cartoon when the war in Ukraine began and I saw suddenly as we all I think all of us have the same thinking poor families poor children poor women they have no hope because a war is the worst thing we can we can think yes it's they have no not to eat not not a roof on his head and they don't know where they can go they have nothing about job the law exists in France and I think in many different countries for the equality of the wages but there is not enough money and so not enough judges to employ the law same problem and also the problem is that you have more you have less employment now so you can't tell to your employer I want the same wages he tells you hey go out and you don't find another job so you are obliged to shut up ma è un po' la stessa cosa per gli uomini perché anche i stipendi dei uomini sono stati abbassati con la crisi ma vorrei ritornare sul tema della guerra e delle violenze perché tocca anche la dominazione maschile cioè quasi in tutti i paesi le guerre sono state dichiarate dagli uomini la maggioranza delle forze armate sono dei uomini e durante le guerre abbiamo visto anche in israel e soprattutto in ucraina che i soldati ne approfittano per violentare le donne per ammazzarle eccetera eccetera quindi Andrea che cosa si può fare su questo chedi what can we do first for me I must precise that you are pacifist you are fighting for peace and love for me it's daily practice of hope in action so even though I think we face challenges that are humongous and very difficult to address I ask I ask I ask myself every day what can I do today to make the world better and sometimes it's a little thing sometimes it's a larger thing but for me optimism optimism is survival I think for many people especially in very vulnerable circumstances optimism is the only way to survive and for me art is activism and that is what I can do is my platform to share my ideas and my philosophy and also to foster empathy and humanity so for me that's that's the way to do it inspire empathy and inspire empowerment yeah many time ago somebody asked to French President General de Gaulle tanti anni fa qualcuno ha chiesto al Presidente de Gaulle in Francia Presidente possiamo supprimere la stupidità e De Gaulle ha risposto questo è un grande programma vasto programma vasto programma e quindi penso che è un po' la stessa cosa è un vasto programma di provare di sviluppare empatia e di fare in modo di calmare un po' le acque guerriere diciamo dei uomini vorrei affrontare un altro problema che è stato molto è uno dei combattimenti di Christine Traxler di Trax cioè di pensare che c'è una mascherinità nelle nostre società che è fondata anche molto sull'approccio culturale alle cose particolarmente nel campo della pubblicità quindi Christine puoi precisare un po' su questo su questa vignetta parli della pubblicità tramite i telefonini dove c'è una specie di polipe che ti mangia ungrinness che non mangia peace ma ma combattare ma ma necessitare l'uomini quindi questa è provocazione perché mi è meglio essere in un paese con un bambino che chassi le vile o è meglio in nostra società dove exibiti un bambino of women to sell, to sell, to sell, make money, make money, make money. And because of that, the cultural sexual, the sexual culture of men and women is going to this. The rape is, for me, linked to this kind of pictures you give of the women. And so I think we have to change, like I see many times on TV these beautiful speakers explaining that it's very difficult, a new rape, a new trial, a new violence against women. And they are exactly the product of the advertising. And they never fight against the image they are obliged to give by the system, by the society. Like if you see, if you imagine men dressed in the street like certain women of course, when you see them with very small small dress small small clothes you don't think did he learn, did he study can't. You're seeing oh, I would like to spend a night with him. And for the women it's the same thing. There is a way of provocating. In a society we have to sign a contract and we have to respect a contract to respect each other's feelings. And so I think we have to make a reflection about what is our own image. Like there was also a movement which was called man spreading against man spreading. Man sitting like that. But a woman sitting like that where is the difference? So I don't mind you spread but be conscient of what you do. I don't mind you try to get a job by sleeping with the boss even if you are a man or a woman I don't mind. But you must accept what you do. You must be responsible of what you do and conscient and have the feeling a lot of young girls or old girls or any any girls are not conscient of the message they send. And I think there is a big reflection. We I do so with with France we open this panel and we take off the the advertising. And I think advertising is is one of the biggest criminal in this society. Can I just a quick mention on manspreading in the States in the US of America manspreading is more about taking physical space. Yes for us. Un altro elemento di questa maschilinità è il fatto della proprietà. la donna può essere la proprietà di un uomo e perché l'uomo pensa che sia così. Marlene. Yes I ask me sometimes when when young people are in love and they married or they make a family and so and suddenly something what 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 happened something else is in the mind yes as you said my wife is my property right now and and I and this is this is not even it's not really known this perhaps because 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 of 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 d'inform man come excuse man d'inform absence of absence of of information but this is a reality suddenly we 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 read or we heard of this kind of information and we cannot not think we cannot believe that this exists in our time but it exists Maria Appia appunto perché l'idea della proprietà è molto spesso uno dei elementi che provoca il femminicidio no? L'idea della proprietà è molto spesso uno delle diciamo convinzioni per cui le donne vengono stuprate uno delle convinzioni per cui le donne non si possono vestire come vogliono e che quindi devono avere un abbigliamento che non sia provocante perché la provocazione potrebbe indurre l'uomo evidentemente ad esercitare un potere che è un potere non sano ma è un potere patologico non è il potere di poter fare delle buone cose ma è il potere sul corpo delle donne è il medesimo potere che si vuole esercitare nel momento in cui un uomo medico possa decidere che quella donna non possa fare interruzione di gravidanza per esempio quindi il potere maschile attraversa e attiene alla disparità uomo donna perché attiene alla disparità di potere all'interno della coppia questa è la ragione per la quale poi subito dopo il matrimonio molti uomini pensano che la donna che la moglie sia divenuta di proprio possesso del proprio potere la donna nei cui confronti possa esercitare e fare quello che voglio trattarla come una mercificazione questa è la ragione per la quale arriviamo ai femminicidi quindi il potere attraversa quasi sempre le diciamo le declinazioni delle varie violenze la violenza economica è attraversata dal potere maschile che è quello che produce capacità reddituale all'interno della coppia evidentemente sì e quindi se io produco capacità reddituale se io porto il danaro posso fare con quel danaro quello che voglio te lo do quando voglio ma ti chiedo anche la sera di darmi il resoconto per come quella somma l'hai spesa quello è potere potere patologico non potere sano ma il potere che porta al femminicidio perché se la donna vuole lasciare quell'uomo e l'uomo non accetta l'interruzione di quella di quella fine di quella della fine della relazione amorosa sentimentale chiamiamola così anche se evidentemente non dovrebbero chiamarla così per evitare che la donna vada con un altro l'ammazza siccome stiamo arrivando vicino alla fine che ci tagliano e ci buttano fuori prima vorrei andare su l'ultimo aspetto di questo dibattito che volevo affrontare cioè non parleremo di anche se sarebbe stato interessante vorrei sapere da voi che cosa pensate che possono fare le donne e gli uomini per fare in modo che tutte queste differenze disuguaglianze sentimento di superiorità di proprietà anche se ci sono anche delle donne che hanno un sentimento di proprietà vis-à-vis del loro uomo ma non le ammazzano o raramente lo fanno più raramente diciamo che cosa pensate che si può fare quali sono le azioni nelle quali uomini e donne e donne particolarmente potrebbero agire per modificare questa situazione quindi inizierei con Andrea Roio perché tu hai già dato un senso a questa una risposta a questa domanda I think for me the first thing is to recognize the humanity on each other in each other recognize each other as equal human beings and coming always from a space of love a space of solidarity a space of equality I think if we don't recognize each other as human beings equals and we don't come from a space of love there is no way to make change for me art is a way to change the world in the sense that it touches somebody's heart it touches her humanity and it's for me there's no option I have no I don't have the privilege of rage rage for me is a motivation only but I cannot stay in a space of rage because for me it I choose I call my art a practice of hope in action so for me it's action always and how would you do to convince Trump that women are equal to men well I don't think there's convincing somebody who is that far off mentally but I do think there's hope convincing other part of the population and our thing is about hope in action is about voting about pressuring politicians and about everyday actions that bring women's voices to the forefront actually also providing women with space to raise their voices and it goes from space in an art gallery or a catalog space in every aspect of the world so that we normalize women as equal to pensi you think that movement like me too are helping or in a certain way provoking negative reaction from the men I think it's both I think Me Too has been a movement that is shifting slowly but surely shifting it definitely provokes a backlash and then men or in general conservatives become even more conservative but I think that's the only way to push forward definitely in the United States it's a huge change still developing of course but there's no way back Marlene Yes I would like to say for the cartoon before that I did it as a joke I think also we can even if it's very important and serious team we as women cartoonists we have the chance the possibility to use also the humor and to show all this problematic so even this is a very serious thing but the girl brings to the soldier the books books are culture so this is what we need we need culture and we need information we need yes to be convinced that this is the most important thing we can apart as women cartoonists or as cartoonists even men of course in france there is not me too but there is another movement which is called balance ton pork che vuol dire manda via il tuo maiale pensando che l'uomo sarebbe il maiale arrivo eccolo quindi faccio la stessa domanda a Christine Traxler tu pensi che movimenti come balance ton port come me too possono aiutare sono in italiano no stavo parlando in italiano scusate quindi pensi veramente che questi movimenti possono aiutare o aiutano veramente le donne o non provocano una speciale reazione antagonista dell'uomo perché io non mi sento un maiale cioè non avrei mai il peso anche se ho ingrassato molto in questi ultimi anni non sono arrivato là quindi so I hate balance ton port because I am a lawyer and the pork has no way to defend himself but I think me too has been very positive because it appears that the problem is really really wide very wide so no to balance ton port and I think I disagree with you I believe in convincing everybody I don't believe in jail so I want to empty the jails and convince people and I just want to put advertisers in jail only the advertisers who are very conscient of what they are doing and I believe in justice I believe in education and I believe you must authorize the priors to be married also and this sort of things which means you don't put money where you put money actually in war and etc etc in nuclear energy and all that sort of thing I think all is linked and also I think a solution is to accept to look at your responsibility as men or as women and what happens Maria Piat ti lascio l'ultima parola pensi che cosa pensi che si può fare per migliorare la domanda a te perché mi chiedo perché dobbiamo fare sempre qualcosa noi donne contro la violenza su uomini parlavo solo delle donne parlò delle donne e dei uomini cosa possiamo fare costruire evidentemente un linguaggio completamente diverso una grammatica nuova sono d'accordo dobbiamo evidentemente acculturarci sempre di più sulle varie problematiche non solamente su quella della violenza non lasciare lo spazio sempre agli uomini ma occupargli gli spazi in modo tale che gli spazi diventino paritari e che quindi abbiano uomini e donne evidentemente la stessa possibilità d'espressione e credo che gli uomini possano fare tanto nella costruzione di una grammatica nuova facendosi un po' da parte talvolta e lasciando più spazio alle donne quindi non dovevo essere qua sì certo che sì vorrei lasciare qualche minuto eventuali domande dal pubblico ma comincerei perché ieri è stata completamente frustrata aveva fatto delle domande non ha potuto fare vorrei lasciare la prima domanda Marocchina e attivista per il diritto delle donne thank you thank you it was I learned also a lot of things in this debate and I think I have this question about the Me Too movement because in Morocco we had the Me Too movement but we are still feeling the pressure of not only patriarchy but also the justice system because we here for the because when I tell Morocco I speak about other Muslim countries because when the victim takes the courage and decide to go to the court to get her justice she ends up being bullied by the whole society and she ends up being more depressed and she ends up and she sometimes when I work with associations the women regret even taking that courage because it only made their life worse so and I'm really proud of all the advancement that happened in Europe or in US and I think that feminism today must go on a global phase because if we are not united I see how women really sometimes become suicidal in the South countries and I think that it's time really to think in a global way because there is a difference between North and South and I myself look for a way on how we can do a global revolution because I'm also angry like trucks I'm not any more peaceful I believe in revolution a very aggressive revolution I can't 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 I can't you can't see la seconda serie che sta proprio di fronte a me intanto dico che mi dispiace per quello che è accaduto alla signora che se non erro ho capito che è stata condannata proprio per un rapporto con donna e donna anche se la donna era d'accordo in una cosa bruttissima tra virgolette si è comportata molto 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 male da come è andata a finire non deve esistere una cosa del genere secondo me la domanda è perché esistono queste persone tra virgolette cattive e a far sì che un'altra persona deve essere condannata perché si può fare qualcosa e si può andare anche contro queste cose e a che punto siamo arrivati a fermare questa violenza contro le donne Maria Pia vuoi rispondere? siamo arrivati al punto che leggiamo ogni giorno giornalmente sui giornali purtroppo ogni tre giorni una donna viene ammazzata e quello è l'apice dopodiché non consideriamo perché oggi non abbiamo evidentemente considerato tutte quelle che sono le violenze che si perpetrano giornalmente sui corpi delle donne alla presenza dei bambini e delle bambine per cui abbiamo diciamo bambini e bambine che subiscono quella che chiamiamo violenza assistita quindi è un punto nel quale ognuno di noi deve fare il proprio pezzo si deve assumere la propria responsabilità per un cambiamento sono molto fini in Italia perché io una volta dormo dobbiamo dobbiamo vorrei che c'è qualcun altro che voleva fare un ma venga qua per favore perché dopodiché dobbiamo chiudere se non c'è tempo no no prego buonasera volevo esprimere un pensiero positivo e vedere se voi lo condividete cioè io credo molto nell'educazione chiaramente dei bambini per quanto riguarda gli aspetti di discriminazione maschio-donna perché vedo che adesso i bambini almeno quelli che ho intratto io diciamo hanno già un pensiero un po' diverso e quindi secondo me i bambini sono il nostro futuro e quindi è un aspetto secondo me molto importante inculcare e far diciamo mostrare un nuovo modo di vivere nel rapporto diciamo fra l'uomo e la donna e quindi diciamo questo secondo me è una cioè volevo condividere questa considerazione positiva secondo me e poi l'altra cosa che volevo dire è che la discriminante volevo capire se voi siete d'accordo in ambito lavorativo donna-uomo secondo me è soprattutto l'aspetto almeno in Italia della gravidanza perché la donna viene discriminata sia nell'assunzione sia anche nel fare carriera perché c'è sempre lo spauracchio perché viene considerato lo spauracchio della gravidanza perché tra l'altro forse c'è anche un aspetto proprio legislativo per cui non c'è molta assistenza aiuto per la donna che è incinta per la donna che ha bisogno o anche per l'uomo e poi per l'uomo che ha bisogno di accudire i bambini per cui se ci fosse più ci fosse più aiuti nell'ambito del welfare del sociale economico per la donna alcuni aspetti di discriminazione forse sono troppo timiste in ambito lavorativo ci sarebbero sarebbero meno evidenti almeno questo penso in Italia perché forse in altre nazioni siamo un po' più avanti la legislazione sulla maternità dal 1973 quindi in Italia abbiamo la legislazione sulla maternità dal 1973 e abbiamo la possibilità di impugnare un eventuale licenziamento addirittura oggi abbiamo le dimissioni che devono essere fatte davanti all'ufficio provinciale del lavoro proprio perché così l'agenzia per il lavoro può verificare se si trattano di dimissioni reali o di dimissioni indotte quindi direi che le donne in gravidanza oggi sono abbastanza tutelate altro è dire se le donne vogliono esercitare quel diritto che gli viene riconosciuto dallo Stato quella è un'altra cosa attiene ad un altro livello io volevo fare un esempio piatico e basta io lavoro con delle colleghe se la collega va in maternità si assenta non arriva la sostituzione e quindi il team si sente sovraccaricato e quindi la donna ma questo è un altro problema non è un problema attirante alla gravidanza no no dicevo che è una discriminante per cui quando arriva la donna riesce a fare anche meno carriera perché ha bisogno di assentarsi insomma io credo questo poi magari mi sbaglio non è una verità tra l'altro non sono un tecnico quindi è solo un mio pensiero di fatto tutto ciò sarebbe veramente per fare dibattiti molto molto più lunghi di questo ma purtroppo siccome c'è un'altra conferenza qua dobbiamo lasciare lo spazio quindi vorrei ringraziare Christine Traxler Andrea Royo Malen Pearl Maria Piavigilante e soprattutto i nostri due interpreti che ci hanno aiutato per questa conferenza grazie a tutti buona serata buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti